allora ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video in realtà vuoi salutare? ciao! non ci hanno sentito? ho parlato solo il mio piano ciao va bene va bene allora prendi adesso sto domando stupido glowy house fabulous sim stylish stiless molly 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 pancia spider stage facciamo mano ragazza spesso 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 mamma spesso spesso continuo ragazzi già ce l'ho stambolgai fiammi 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 Sexy Computer Sexy 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 Level up Comunque Ho discharicato Stemble guys Perché Quello là Non era Cioè Quello là Il gioco Mi aveva fregato Per favore Fa che Non ho mai fatto Oh Ese è un costumino Si Quello 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 Qua Carino Guardate Carino Non sa che Me lo devo sciopare Dunque Io questo Lo tengo Sul mio Tablet E non Sul mio Telefono Oppure Sul Quindi Poi Io Lo tengo Solo Su Tablet Ensemble Guys Pero No Lo tengo Su Computer Si Si Quali Fin Che Mi Siene Ragazzi Di sicuro Spero Con questo Mino Con la Giacchina Perché Mi sono Simbatici Perché A me Mi piacciono L'inverno Che Mi piace L'inverno Ma anche L'estate Però Mi piacciono Che Mi 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 Posso Farlo Anche Ecco Qualificati Insieme Amici Per La Pele Amici Aspetta Vai No, 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 no. No, 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 no. Sì, sì, qualificato, evviva. Ok ragazzi, buon dia, adesso devo vedere quanti si possono qualificare 0, ma ci mettono sempre insieme adesso non voglio stare, perchè non sono io caldo un chiuso perdo mi dici si si perdo 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 ragà no ragà perdo perdo ho perso mi mettono con quello meno mi piace proprio solo che io su quella skin ce l'ho su tablet ma non è comune no vai percino Vai che lina Che lina c'è Allora ciao